Amiche e amici, dalla vostra Gattaluna, siamo sempre in quel di Napoli, siamo nel bellissimo e comodissimo B&B La Peonia, ospiti di questi gestori che sono di una squisitezza eccezionale e siamo a due passi dalla stazione centrale, metropolitana e quant'altro. Anche se noi ci avvaliamo molto del taxi, anche perché diciamo il costo dei taxi a Napoli non è come il costo dei taxi in altre città, non faccio nomi, diciamo in altre città. Sono qui in una postazione video, chiamarla postazione video francamente, voglio dire, è molto ottimistico per farvi vedere il piccolo shopping che ho fatto l'altro giorno in compagnia della dolcissima Melania Costantino. Perché vai così giù, 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 giù? Prima di tutto indosso un meraviglioso rossetto acquistato qui. Quando si è negati, si è negati. Acquistato qui al Clio Makeup Corner dell'OVS di Via Scarlatti a Napoli, quindi su Alvomero. E questo rossetto è uno dei rossetti liquidi, ma devo dire sono confortevolissimi, io me li facevo mancare. Li ho provati, quelli di Clio, però erano praticamente tutte limited edition, Clio, quello dei 10 anni, poi ho preso anche quelli Conte, anche quello era, mi sembra se si erano, tutte limited edition. Questo qui si chiama, spero di non sbagliare, Stranger Spring. Quindi è una primavera strana come questa che stiamo vivendo qui. C'è un tempo novembrino, non le giornate dire proprio freddo, 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 no. Ci sono state però delle giornate decisamente belle e freschine. Questo è il meraviglioso Malva e devo dire sulle labbra è confortevolissimo, non posso dire assolutamente nulla. E questo l'ho comprato da Clio Makeup. Ho comprato poco perché, mannaggia, ogni cosa poi arrivava la melania, come dire, famelica, di spendere, di mostrarmi, insomma, che c'aveva la carta, la bella prepagata, come si dice, insomma. Ecco, e quindi è Melania birbacciona. Ok, e questo è stato appunto il piccolo shopping da Clio Makeup. Ma abbiamo fatto anche qui sul canale un video apposito con la dolcissima collaboratrice di Clio che ci ha illustrato tutto, ci ha spiegato tutto e consigliato anche sui colori. Quindi ho preso questo che è un Malva freddo, insomma, come piace a me. Infatti lei mi ha detto subito, lei, colori freddi. E via. Poi siamo stati anche da MAC. Questo video non è sponsorizzato da nessuno. Quindi MAC. E lì abbiamo comprato, anche lì sotto la guida di una Makeup Artist bravissima, bravissima, vedrete tutto, è Barbara, Barbarella, la bellissima, dolcissima Barbara che ci ha mostrato una novità assoluta a cui ovviamente io non ho potuto resistere. Naturalmente anche lì, non vi nascondo niente, la Melania, zac, mi ha voluto ancora mostrare che c'aveva la carta prepagata. Ma insomma, queste sono delle vere e proprie prepotenze, secondo me. Cosa ne pensate? Grazie Melania, sei un angelo. E ci ha consigliato questa novità assoluta. MAC. Studio Fix Everywhere. All Overface Pen. Una vera e propria penna, una pennona, che può fare da fondotinta ma anche da correttore. A me ha consigliato, perché me l'ha fatto testare sul mascellone, come si deve fare, a me ha consigliato l'NC25, quindi Neutral Cool 25. E vi faccio anche vedere come è fatto il marchigegno, anche se sto agendo con una sola manina libera, perché l'altra cerca, diciamo, disperatamente di impedire. Allora, i vostri commenti in questi giorni sono troppo carini, siete veramente una community deliziosa. E una di voi mi ha detto, fai bene, dai, goditi la città, ma insomma non esiste mica solo il make-up. No, no. Amica cara. Ma ce lo so, eh. No, scherzo, dai. Sei stata troppo carina, mi hai strappato anche una risata. Ecco il marchigegno che voi dite, eh, cos'è sta roba strana? Praticamente, adesso non lo apro perché ho una sola manina. Praticamente voi, qui vedete, intanto vedete sia il colore, sia la quantità di prodotto che rimane, ma quando togliete il coperchietto semi-trasparente, poi cliccate qui, come appunto a volte si fa nelle penne, c'è uno stantuffino che fa uscire da qui un pizzico di prodotto che voi potete usare come fondotinta, ma anche sul contorno occhi, è molto coprente, è meraviglioso, ma è anche molto morbido, quindi non vi secca la pelle, una vera meraviglia. È un bel packaging robusto, in viaggio è perfetto, sono 12 millilitri, quindi è meno del classico, del classico 30. Non so quanto costa, avevo messo i prezzi, poi li dimentico, ma sì, quindi in omaggio ci ha dato, la ragazza che ci ha servito egregiamente, questo eyeliner lunga tenuta di MAC, il loro, il mitico eyeliner, ovviamente nel colore The Finely Black, è il loro classico eyeliner, non mi ricordo se è con la punta di feltro, non me lo ricordo, no, è matita classica, è matita eyeliner, ma è in matita classicissimo, quindi praticamente è una matita occhi, che però si può sfumare, oppure fa un segno grafico nitido, insomma potete usarla poi come volete. stamattina invece col Fido Carletto, ero un pochino in crisi, perché stasera mi devo vedere con una persona, che ha con una make up artist, favolosa, per cui ho pensato, mamma mia Paola, hai tutti i presenti, conciata così, tra l'altro notate che, proprio ieri, sono stata bellamente insultata, sotto un post di Instagram, da un'ambù, persona a me sconosciuta, che sostanzialmente mi diceva, usava delle parole forti, che erano a mio modesto parere, semplicemente degli insulti, dicendo in buona sostanza, che alla mia tarda e veneranda età, che comunque c'è, e mica ve l'ho mai nascosto, e come dire, mi vestivo in maniera incongrua, mi vestivo insomma, proprio un po' da pezzente, diciamo, e poi che spendevo invece un sacco di soldi, che li buttavo via in make up, insomma, ma comprati qualche cosa, che sia soprattutto consona alla tua età, quindi vestiti di nero, sguardo basso, e possibilmente non uscire di casa, presumo fosse questo il suo discorso, quel senso è una mia interpretazione, e quindi ho pensato, mi vedevo parecchio lucida, io ho portato qui, magari se vi interessa, quando torno dalla vacanzina, vi faccio anche vedere la mia truce, niente di che, comunque in questa truce ho tra le altre cose, una ciprietta piccola 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 piccola, di quella in polvere libera, di Laura Mercier, splendido prodotto, strafamoso, straosannato, mi sa che guardo sempre dalla parte sbagliata, ma non importa, e come dire, però essendo piccolina, va benissimo per il contorno occhio, e con un bel pennello adatto, tampono il correttore, ma, no, questo qui di meca ancora non lo apro, perché voglio aprirlo con calma a casa, insomma, e quindi va bene per tamponare un po' il contorno occhi, ma per il viso, è talmente piccola, che non riesco ad andarci dentro, con un pennello da cipria, ci posso andare con un pennello bello, flaffoso, per occhi, ma insomma ci si mette poi mezz'ora a fare tutto il faccione, e allora niente, sono passata da questo brand, peraltro low cost, famosissimo, Ycon Cosmetics, che è qui sotto alla stazione centrale, e mi sono fatta un po' consigliare, la ragazza giustamente mi ha detto, guardi, l'ho detto io per prima, ha detto, guardi, almeno così, l'ho detto anche perché lei non potesse arrivare a pensare che avevo 40 anni, spiritosa che sono, e allora l'ho detto, guardi, ho una pelle matura, come lei può evidentemente constatare, proprio così gliel'ho detto, e lei già rideva, e ho detto, avrei bisogno di una cipria da portare in giro, non so cosa mi consiglia, lei mi ha detto, le sconsiglio le ciprie compatte, ce ne sono idratanti, ma è stata onesta, ma ha detto, noi non le abbiamo, però, come ciprie idratante, ne abbiamo una in polvere libera, che ne vendiamo tantissime, l'importante è poi riuscire a aprire la cattolina, e si chiama, e si chiama Hydra Set, quindi promette bene, ed è proprio una powder, che è una finishing loose powder, nel studio dell'inglese, dà sempre frutti scarsini, ed è questa, classicissima, translucent, e Hydra Set, Fini... Fin... Lucio, come si dice, finishing loose powder? Finishing. Ah, finishing, voilà, finishing loose powder, with yaluronic acid. Allora, l'acido yaluronico è un benefattore, io gli darei il Nobel della pace, eh sì, è giusto, non glielo possiamo dare per la letteratura, giusto? Bene, diamogliela per la pace, sto scherzando, è una cosa seria, è un brand italiano, a sedia a Mulano, ciao Milano, mi manchi, ma tanto adesso torno, è una cipria in polvere libera, che rifinisce, e non c'è scritto opacizza, proprio perché è idratante, con una zampina sola non riesco ad aprirla, ma fidatevi di me, la confezione è in vetro, e dentro c'è una specie di rettina, non so se il mio personale assistente, è disponibile un attimo a scoperchiare, senza scassare questa cipria, affinché io possa mostrarvi come si presenta il prodotto, c'è riuscito, è stato anche molto bravo, capirei, comunque, seriamente, qui c'è, beh, meno male, c'è un plastichino che lo protegge, quando lo togliete, questo plastichino bianco, c'è la classica rettina, che fa uscire un pochino di prodotto alla volta, così voi potete usarlo, senza fare troppi sconquacchi, dopodiché ho preso due maschere, che fanno sempre comodo, anche se poi quando sono in viaggio non le uso mai, ma a casa sì, e ho preso questa qui, SOS Hydra, questa è una maschera appunto, sempre con l'acido ialuronico, e con la vitamina B3, e quindi questa è super 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 idratante, ed è contrassegnata dal colore rosa, contrassegnata dal colore fucsia, c'è SOS Energy, questa invece è una rivitalizzante, con estratto di papaya e ginseng indiano, ho appena mangiato la papaya, non era papaya, era mango, è lo stesso? No, bene, e questo è quanto, mi hanno fatto un omaggino, carino, 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 potevo scegliere il colore, poi c'erano diverse cose, e ho scelto, cioè ti davano l'omaggio una mentita labbra, scusate, potevi scegliere il colore, io ho preso due due due, come si chiama? Warm Red, sì, è un rosso caldo, lo so, io le ho chiesto il rosso fragola, giustamente la ragazza mi ha detto, onestamente mi ha detto, signora, non ce l'ho, non ce l'ho, assistente carissimo, se tu prendi questa matita, che è come una matita normale, mi fai un leggero scarabocchio sul dorso della mano, senza procurarmi possibilmente, anche con più forza, cioè, metti là un po' di taglio, no, mamma mia, me ne sta sprecando, adesso voi ditemi, voi ditemi se questo a voi sembra uno swatch, uno scarabocchio, è uno scarabocchio, era una battuta, ha fatto uno scarabocchio, perché effettivamente glielo ho chiesto io, allora, è un rosso, a me non sembra così caldo, comunque, è uno swatch indegno, ho anche il coraggio di pubblicarlo, e quindi, questa matitonsola, dai, perdoniamolo, poverino, lui non sa neanche cosa è uno swatch, dai, sa tante cose, lui è appassionato di fisica, di scienza, appassionatissimo, l'informatica, sa tutto, 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 ma insomma, sulle matite labbra, non posso pretendere, guardate come è bello il rossetto qui su, Clio Makeup, quindi come vi ho detto, Stranger, 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 Strana Primavera, o come diceva la dolcissima, meravigliosa Loretta Goggi, maledetta primavera, voilà, ed eccoci qui, questo è il piccolo shopping beauty, napoletano, e non è detto che la smettiamo qui, un bacione amiche e amici, fate quello che vi fa stare bene, io sono qui col mio meraviglioso e perfetto swatch, e naturalmente, alla prossima, sono gli ultimi giorni, e torneremo a caso, ciò, 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 ciò,